signori what they had sperando che si lega così film del 2018 con la bellissima Hillary's Walk peccato che film non è nei million dollar baby nei boys don't cry nei 55 passi insomma siamo molto distanti è un 6 ma appena appena cioè restamente manca completamente rimordente si succedono delle cosine ma è un film che sicuramente non vai a rivedere e basta così al momento su Netflix un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao